Finalmente signor, se ne vuole il mio insuquista, Palorba, Filomena, Filomena, ma che cosa fai che il suo marito si traslocò? Perché signor, non a te, aveva tutte le cose, la so, il catturale, un numero telefonico mi devi dare, che ci chiamano, ci ricco che il suo marito si stocca i vizi, ebbene, abbutta tutta questa monnezza che c'è qua sopra. Sì, sicuramente non pagava l'affetto, ho capito, se ne manano, se ne paghi l'idea, ci fai un pacco, ci fai, al padrone di casa ci ha fatto il pacco, ma cose assurde, cose che non si fanno, perché la casa si paga ogni mese, ogni mese. Sì, tu la paghi ogni mese, brava, è ovvio. Ma che cosa vuoi, non ricco io, se tu ne vuoi, io non lo so, si infilano in te case e diventano padroni. Che c'è, che c'è, ecco, al solito ti ammescare sempre tu, ci vuole sempre l'uovo un tuo panaro, vero è? Che cosa? Io la casa è mia, non ho problemi, ora questi non sono spregi rivolti, hanno anche case in affetto? Non sono spregi? C'è bisogno che lo ricordi che la casa è tua, ma non ti preoccupare che ne hai visto lavare case io, e proprietari, e non parlare assai che ne hai visto lavare io, sai quanto ne ho visto lavare case io, un mare, e a dire, dammi chiave, ho capito, quindi non ti dare aria, che la casa è tua e non hai problemi. E cosa? Ah, ne hai un'altra? Tutto buono e benedetto, tutto buono e benedetto, io non hai un'altra casa, io pago l'affitto ogni mese, ogni mese io sborzo ed è come se fosse casa mia, capito? Ma poi appunto per chi è casa tua, tu cara Piera te la devi mantenere pulita, non cacci su insunze e i succi, che schifo, che schifio. Che cosa? Ah, già deve venire un'altra inquilina sopra da me. Ah, e quando viene a vedere la casa? Quando? Già più tardi. Ah, a chi ora viene, lo sai? Non lo sai? Ho capito, io verso le tre già signora avanza la scala, e vedete che ti pensò. Ho capito, perché si è giù, non ne caibizzano, ci mettiamo i bastoni in mezzo alle cosce. Hai capito? Alla signora che verrà qua. Qua persone solo che si fanno gli affari propri, e basta. Ma vedi che cosa? Cosa, la sotto, se cosa sapete? Tutto aperto e tutti gli scatole qua, se ne io. Sì, no, ma quando ci vuole, ci vuole. Avanti di sera ci cavo fuci io, che di nuovo, no, per le maluzze. Aveva il cane, il vizio che alzava la gamba nella pianta da lei, e mi arrivava in testa a me, a Pepe. Ho capito? Eh, no, abbagnavo il baione, abbagnavo. Si sono fermati tutti. Anche il fruttivendolo si fermò, quello ambulante. Si pigliò la sedia, si è seduto e si è visto tutto. E poi io ci risse, ti è piaciuto lo spettacolo? Dammi un chilo di pesca, a regala mille. Ho capito? Amone, comunque, vediamo chi sa chiutà i documenti, se due avevano i figli, una avevano i figli, se due o una come chissà che c'è qua sotto, che c'è ovvio a fare in cia casa. Le gente sane, via va, entra ed esce, entra, paga ed esce, entra, paga ed esce, entra, paga ed esce.